E salve a tutti amici del Legionario e benvenuti alla novantatresima puntata della nostra rubrica 10 minuti con il Legionario. Torniamo in diretta subito, notizia bomba, il gruppo Friedkin è a Roma, a giorni si chiuderà probabilmente con buon esito la trattativa che porterà al cambio di proprietà della S-Roma. Pallotta vende, Friedkin e tutto il suo gruppo subentra come presidente con la speranza che possa portare maggiore ambizione a Roma ma soprattutto che possa portare un progetto valido che possa appunto riportare questa Roma in cima, in Europa dove veramente meriterebbe di stare. Quindi ancora non è ufficiale ma le due parti si stanno incontrando, si sono incontrate ieri, si sono incontrate questa mattina e si rincontreranno oggi, si rincontreranno in questo pomeriggio. Tra l'altro Petrachi è attualmente nella sede dell'Euro, della Roma, all'Euro appunto e insomma la trattativa sembrerebbe poter andare a buon fine. Ringraziamo Pallotta per alcune cose buone che ha fatto perché indubbiamente alcune cose buone sono state fatte, come aver portato a Roma diersi i giocatori buoni, come aver riportato la Roma in Europa avendoci fatto accarezzare quel sogno della Champions League dopo averci portato in semifinale. Certo tante cose non sono andate bene come ad esempio a mio parere il trattamento di alcuni giocatori simbolo di questa squadra come alcune cessioni che probabilmente andavano evitate per tenere la squadra competitiva. Comunque gli errori si fanno, il bilancio è che dal 2011 ad oggi, quindi in nove anni, la Roma non ha vinto nulla, quindi non è che sia in quanto a trofei il bilancio è tutto, forché è positivo. Per cui speriamo che con il prossimo gruppo la situazione insomma possa cambiare, ma andiamo a parlare di campo perché è l'unica cosa che conta. Sassuolo Roma è finita 4-2, sabato sera una disfatta della squadra di Fonseca che ha iniziato quest'anno un po' a rallentatore. Nella partita contro la Lazio, una prestazione con la M maiuscola, sembrava poter aver trovato la quadra, però evidentemente non è così perché contro il Sassuolo abbiamo fatto una partita veramente orrenda, soprattutto nel primo tempo. Le partite durano 90 minuti, la squadra si è svegliata soltanto nel secondo tempo e non va assolutamente bene così. C'è stato un chiarimento tra Fonseca e la squadra sicuramente a Trigoria il lunedì quando sono ripresi gli allenamenti. Bisogna ripartire già da venerdì perché c'è una partita fondamentale contro il Bologna, una squadra insidiosa. Bologna che è undicesimo a 30 punti, ricordiamo che la Roma è quinta a 39 punti. Affronteremo la squadra di Sinisa Mijajlovic che è reduce dal 2-1 sul Brescia. In casa, davanti al nostro pubblico, dobbiamo assolutamente fare bene. Certo, non potremo contare ai miei su Lorenzo Pellegrini che si è fatto buttare fuori, quindi è squalificato. Nella partita contro il Sassuolo è stato espulso, per cui il dubbio è Perotti, Pastore, entrambi sono rientrati. Perotti può giocare sulla trequartice, è Pastore che scalpita con la speranza che sia quello di qualche mese fa. Poi ha avuto questa botta all'anca ed è sparito. Purtroppo uno dei limiti più grandi di Javier Pastore è proprio la sua fragilità fisica. Sarà una partita non facile sicuramente. Ci si aspetta molto da determinati giocatori, soprattutto nella retroguardia, che nella prima parte di stagione era stato il fiore all'occhiello della squadra di Fonseca. Nelle prime cinque partite di questo 2020 in campionato la Roma ha preso ben dieci gol, per cui c'è qualcosa che non va, è qualcosa su cui bisogna lavorare. Però ci sono state troppe polemiche, secondo me, dopo la fine di questo mercato, che ha portato a Roma tre giocatori giovani, Perez, Villar e Ibanez. Poi Bruno Perez, che è rientrato dal prestito in Brasile e la società ha deciso di tenerlo. Certo, la gestione di Florenzi che ha lasciato un po' la mano in bocca, non a tutti, ma a molti tifosi, più che ovviamente dal punto di vista sentimentale, dell'affetto, dal punto di vista proprio numerico, tattico e tecnico, ti lascio un po' con qualche punto di domanda. Perché Florenzi era un giocatore d'utile che poteva fare più ruoli, la sua esclusione porta inevitabilmente, fino a che non rientra Zappacosta, ad avere due terzini destri che, insomma, Santon e Bruno Perez non sono come Spinazzola e Kolarov dall'altra parte. La speranza è che possano fare il meglio possibile e che Santon possa essere sempre quello del derby, perché ha fatto una partita incredibile al derby. Certo, col Sassuolo non ha giocato bene, ma tutta la squadra non ha giocato per niente bene, ne salvo due con il Sassuolo, cioè Spinazzola e Dzeko. Però, insomma, per una squadra che ambisce al quarto posto, avere come terzini Santon, che comunque è un giocatore, una buona riserva, e Bruno Perez, che viene da un anno e mezzo di prestito in Brasile, nella Serie B brasiliana, in cui ha giocato, credo, due o tre partite. Insomma, è una scelta un po' azzardata, ma che rispetto da parte della società e spero che questa scelta venga ripagata. Certo, avere un Florenzi in più avrebbe fatto comodo fino a giugno, però ognuno fa le sue valutazioni e speriamo che Zappacosta, che dovrebbe tornare a marzo, se tutto va bene, prosegue il suo percorso riabilitativo, così come gli altri infortunati, possa fare bene, possa prendersi il posto da titolare e speriamo che la Roma possa avere un benedetto terzino destro che da un po' di anni a questa parte ormai non trova un terzino. Mentre a sinistra abbiamo trovato con Kolarov una garanzia, anche se in queste ultime partite è andato in panchina, comunque Kolarov è un signor terzino. Spinazzola sta giocando molto bene dopo la telenovela che era successa il mese scorso con l'Inter. A Roma sembrerebbe essere tornato un altro giocatore praticamente. La speranza è che Zappacosta possa tornare nella miglior forma possibile. Sempre parlando di infortunati, Mkhitaryan oggi finalmente è tornato in gruppo, non lo vediamo in campo da un paio di mesi. Torna in gruppo, non dico che partirà a titolare contro il Bologna, ma Fonseca probabilmente avrà un'alternativa in più e quindi credo proprio che se lo porterà in panchina. Spegniamo due parole su questo allenatore perché ho letto di tutto. Dopo la partita col derby la Roma è stata portata in cima, proprio alle stelle, una prestazione pazzesca. Complimenti sia alla Fonseca sia alla squadra, giustissimi. Contro il Sassuolo la squadra non ha fatto assolutamente una prestazione degna, però insomma da qui a dire indegni, stagione compromessa, Fonseca dimettiti, dai ne passa, ci vuole equilibrio un po' negli giudizi. È stata una partita. Io capisco se perdi dieci partite di fila, insomma due domande te le fai, però è stata una partita. La Roma non sta vivendo sicuramente il miglior momento. Abbiamo iniziato questo 2020 un po' con il freno tirato, c'è da lavorare, i problemi ce ne sono perché abbiamo avuto tantissimi infortuni, i nuovi arrivati si devono integrare, non gli si può chiedere subito di fare la differenza. Insomma, sono giovani, hanno bisogno di un po' di tempo e Fonseca sta facendo, ripeto, secondo me un miracolo perché abbiamo un'Atalanta che è assolutamente in forma, anche se ha pareggiato l'ultima partita contro il Genoa per 2-2, ma insomma l'Atalanta è un'ottima squadra. Stiamo reggendo molto bene l'urto, la botta, siamo quinti a 39 punti, a pari punti con gli Orobici che hanno lo scontro diretto a favore. Settimana prossima c'è una partita fondamentale in quel di Bergamo dove devi vincere, lì devi vincere perché una vittoria lì può cambiarti la stagione e innanzitutto devi vincere venerdì contro il Bologna, una partita tutt'altro che facile. La squadra di Mijajlovic ce l'ha dimostrata all'andata, è una squadra ostica, forte e molto rognosa da affrontare, per cui la Roma deve tirare fuori il carattere, carattere che ha tirato nella maggior parte degli incontri che si sono disputati fino a questo momento in questa stagione, per cui io sono molto fiducioso, spero che quello di Sassuolo sia stato soltanto un passo falso e credo e spero che questa squadra abbia le potenzialità per arrivare quarta. Detto questo ragazzi, chiudiamo con una notizia importante, niente operazione per Diavara, il centrocampista continuerà con la terapia conservativa, quindi si va verso questa terapia appunto che lo dovrebbe portare in campo prima, perché con l'operazione i tempi di recupero si sarebbero allungati e per cui il ganese avrebbe perso a quel punto la stagione, avrebbe terminato la stagione. Invece probabilmente tra un mesetto potremo rivederlo in campo, la speranza è questa perché la sua assenza si sta facendo sentire anche pesantemente. Detto questo ragazzi, io vi invito a seguirci sul nostro sito, sui nostri social, su Twitter, su Facebook, su Instagram, sulla nostra radio dove potete riascoltare tutti i nostri podcast e su YouTube. Un saluto a tutti e sempre sempre Forza Roma!